Prima i contenziosi sullici con le ferrovie dello Stato per lo scalo di Domo 2 e poi con il Enel Green Power per alcune centrali, contenziosi in parte risolti. Ora il comune di Villa Dossola è alle prese con una causa contro l'ATC, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, che ritiene di non dover pagare l'IMU per le numerose case popolari che possiede a Villa Dossola. Ricordiamo che il centro solano è nel VCO la città che ha più alloggi popolari, 594 in tutto. ATC ha chiesto il rimborso dell'IMU pagata nel 2012, una somma di quasi 50.000 euro, rimborso che il comune ha negato, poiché ritiene che ATC debba pagare come previsto da alcuni decreti legge che hanno confermato l'applicabilità a questi immobili della liquata ordinaria. La Commissione Tributaria di Verbagna e quella regionale di Torino hanno respinto i ricorsi di ATC, che ora si rivolge in Cassazione con le stesse motivazioni presentate alle commissioni. Da qui la decisione del comune di opporsi al ricorso. L'assessore alle finanze del comune, Alberto Lepri, ci spiega che è uscita una legge che riconosce lo status di alloggi sociali agli alloggi ATC. Ma l'esonero al pagamento è dal 1 gennaio 2014, quindi per gli anni precedenti l'agenzia deve versare l'imposta. E infatti Villadossola chiede il pagamento per il 2012, ma altrettanto farà per il 2013 perché sono imposte dovute. Non siamo i soli, ma ci sono molti altri comuni impegnati in questi ricorsi, ci conferma l'assessore. Un esempio di come vadano le cose in Italia tra enti pubblici e agenzie o società private, con contenziosi che finiscono solo per intasare le aule di giustizia a causa dell'interpretazione ballerina delle leggi dello Stato.